E' giallo intorno al piano sanitario regionale della Sicilia. La bozza, inviata informalmente alla Commissione Sanità dell'Arse, che ha dato il via ad una sequenza di polemiche, sarebbe stata ritirata nella serata di ieri per correggere una serie di evidenti errori da parte dell'assessorato alla salute. Ma il piano che taglia 1.500 posti letto nell'isola in realtà starebbe andando avanti, visto che l'interlocuzione con la Commissione, formalmente, arriverà soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta di Governo. In pratica, l'invio della bozza alla Commissione era stato un atto di cortesia da parte dell'assessorato e non un atto dovuto. Ritirata la bozza in Commissione, l'assessorato si preparerebbe a portare comunque il piano in giunta. Un provvedimento che prevede 1.500 posti letto in meno negli ospedali siciliani. Il nuovo piano punta a far rientrare la regione all'interno del parametro nazionale, ovvero 3 posti letto ogni 1.000 abitanti, a cui si debbono aggiungere 0,7 posti di riabilitazione a lungo degenza sempre ogni 1.000 abitanti. Secondo il piano della Borsellino, i posti letto dell'ospedale civico di Palermo scenderebbero da 853 a 824, mentre il Garibaldi di Catania ne manterrebbe 588 degli attuali 630 e il Papardo di Messina 431 invece di 452. L'ospedale Canizzaro di Catania subirebbe un taglio da 560 a 536 posti letto, mentre Villa Sofia Cervello a Palermo dovrebbe accontentarsi di 696 posti invece degli attuali 745. Il documento prevede anche l'accorpamento dei piccoli ospedali che penalizzerebbe alcune province più di altre. soprattutto Catania. Ma al progetto viene contestato praticamente da tutti i deputati di essere slegato dalle esigenze del territorio, di tagliare i posti che vengono usati e aumentare invece quelli che non vengono riempiti. Insomma, di essere adatto senza legarlo alla capacità di utilizzo dei posti. Una pioggia di no che rischia di restare lettera morta e dar vita ad una nuova norma non condivisa e sulla quale innescala l'ennesima battaglia destinata a concludersi senza vinti né vincitori. Grazie. 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 Grazie.